e fa bene e basta dici ma com'è che vuoi dire se io non sto occupando ma vuoi vendere soltanto pochi fiori e le fave hai deciso e dimmi come ad affare a soddisfare i tuoi clienti 70 fiori 70 fa pu de caueto scaccio pu de caueto citarama 70 fiori 70 fa citarama